Pesero Capitale della Cultura 2024 accende anche un faro inedito sulla cultura dell'artigianato artistico della nostra provincia avviando una mappatura delle tante realtà artigiane del territorio in una sorta di censimento che permetterà di orientare pesaresi e visitatori su un mondo del saper fare con le mani, spesso un po' troppo nascosto. Un progetto che sarà curato da Loda Ordine degli Artigiani. Noi vogliamo portare le persone non soltanto a parlare dell'artigianato artistico ma noi li vogliamo portare all'interno cioè quindi proprio fargli mettere le mani in pasta, farglielo toccare, far sì che possano essere all'interno delle nostre botteghe e capire veramente che cosa c'è dietro a un manufatto creato da zero, creato su misura per una persona un qualcosa che sia unico nel suo genere e che renda unica anche la città che queste persone stanno visitando. È una capacità di aprire le botteghe che sono i laboratori che sono chiusi molte volte e c'è questa possibilità di tenerli aperti, di farli visitare e di fare in modo di creare rete e di unire varie realtà diverse che possono essere sia da chi lavora la pelle, chi lavora la ceramica, chi lavora il ferro, chi fa anche oggettistica per la casa e per fare in modo di essere fluibile e personalizzare insomma anche un prodotto che pesero e fare la conoscenza di cosa veramente esiste di artigianato qui da noi. Abbiamo sentito l'esigenza di questa mappatura perché siamo i primi che quando andiamo nelle città cerchiamo gli artigiani da visitare, cerchiamo proprio quei luoghi che rendono unico il territorio ed è quasi impossibile da trovare, sono anche sempre un po' sparpagliati. Quindi volere questa mappatura è stato rispondere a un bisogno non solo nostro ma di tantissime persone anche che ci trovano per caso. Uno strumento per la città e per i visitatori ma anche un invito agli artigiani a partecipare alla creazione di una mappa online sul sito di Pesaro 2024. Apre oggi la possibilità di candidarsi, quindi gli artigiani da oggi si possono candidare per poter far parte della mappatura e scadrà il termine il 30 di novembre. Speriamo che ci siano quante più adesioni possibili, noi lo stiamo comunicando in tutti i modi, su tutti i canali e penso che mi aspetto un bel successo da questa cosa.